Buongiorno da Altigillazio, la povertà a Roma è un aumento, il numero di senza fissa dimora è cresciuto esponenzialmente negli ultimi decenni e il sistema di accoglienza capitolino non regge la richiesta di aiuto migliaia, le persone costrette a dormire per strada. L'allarme nei dati del dossier della Caritas, diffuso oggi in tutte le parrocchie di Roma, che mostra un confronto impietoso con Milano. Rosario Carello Il numero che più di tutti fa riflettere e forse inquieta è questo, 30 anni fa i senza fissa dimora a Roma erano 500, oggi sono quasi 8000. Per loro ci sono solo 200 posti letto di notte, vuol dire che per oltre 7000 persone non ci sarà quest'anno alternativa al freddo. Il confronto con Milano è impietoso, lì sono già attivi 2700 posti letto, praticamente uno per ogni senza tetto. La Caritas di Ocesana racconta l'estrema povertà a Roma, lo fa con una ricerca appena consegnata alle parrocchie, con analisi e proposte. In ballo la dignità di donne e uomini che dormono nelle baracche, nei sottopassaggi, sui marciapiedi, in una città sempre più indifferente, dove chi sta meglio guarda al povero come un rifiuto che va allontanato. Questa l'analisi della Caritas e poi manca un piano. Manca una visione generale, manca un disegno sistemico per affrontare questo fenomeno e che possa appunto far leva sulle potenzialità e sulle risorse di ogni persona senza dimora, in modo tale che questo sia un elemento appunto di riscatto. La povertà, però, continua la Caritas, è un problema che riguarda non solo i poveri ma tutta la cittadinanza, perché si ripercuote sulla sicurezza percepita e reale e sull'economia. Da qui la proposta di un dialogo con le istituzioni e il volontariato. In totale, in condizioni di estrema sofferenza, a Roma ci sono 14.000 persone. Grazie.